Grazie e benvenuti a questo incontro per la presentazione di Crossroads, un'iniziativa che fa incontrare la tradizione enogastronomica di una regione d'Italia, la Lombardia, con il gusto cinese. Abbiamo voluto unire due grandi passioni, la passione cinese e italiana per il buon cibo e la vocazione della nostra regione a produrre prodotti agroalimentari di qualità. Nell'anno delle Olimpiadi di Pechino portiamo questo contributo di dialogo ed incontro, una sfida amichevole tra le nostre tradizioni culinarie. a incontrarsi e a mescolarsi per un arricchimento reciproco. Grazie a tutti. 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 la posizione degli amanti della tavola dei nostri due paesi. Grazie a tutti.